E' scortese. Donna, sei una bomba. È un complimento o un'offesa? Scendi subito dall'auto. Scrivi tu, Tel Aviv brucia? Già. Raccontami, su, com'è che va a finire? No, senta, non posso proprio dirlo. Due volte al giorno passi dal mio posto di blocco, no? Raccontami come finisce. Tu non hai mai scritto niente in vita tua. Sai, scriveremo alla fine il tuo curriculum. Senti, Yehud, è un generale israeliano. Deve essere virile, un tipo romantico, un vero gentiluomo. Permitte. Te l'ho scritto come si deve. Che faccia? Sorridi? Io conosco l'autore. Qualsiasi autore o scrittore ha una grande responsabilità verso il suo popolo. O le bombe o la resa. Sono queste le alternative. David, ma lo sai che abbiamo qui una celebrità? Quest'arabo è il tizio che scrive Tel Aviv brucia. Tu l'hai mai vista? Sì, una volta. È antisemita. Per forza. Con quel titolo. Ti aspettavi che fossi sionista? Grazie a tutti.